ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ragazzi appuntamento con limited mania andremo a visionare un edizione francese edizione bellissima ragazzi veramente bellissima edizione in dvd delle cronache di narnia il leone la strega e l'armadio primo capitolo della trilogia edizione veramente ragazzi stupenda la cercavo da tanto tempo non si trovava si trovava prezzi veramente altissimi poi mi è stata proposta dal mio amico simone io ho detto ovviamente subito di sì come ho detto in un video precedente e sono andato a vedere su ebay e si trova e a prezzi diciamo ragionevoli non so se quando pubblicherò questo video questa edizione su ebay sarà ancora disponibile non so se il mio amico simone ne abbia un'altra penso di no comunque in caso che mi metterò il link in descrizione però non ci perdiamo in cianci ragazzi e passiamo all'unboxing eccoci qua ragazzi allora andiamo ad aprirla ok e andiamo a gustarcela e andiamo a gustarcela come mi sembra doveroso fare doveroso fare ok vediamo di non di non fare dei danni e ok 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 che 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 l'abbiamo avuta ragazzi eccola qua bellissima grandissima ok ok l'andiamo ad aprire adesso capiamo innanzitutto da dove si apre allora qui abbiamo il flare vediamo se bisogna vabbè il flare non è neanche incollato ottimo direi è bella per poco ho preso dentro la telecamera perfetto quindi l'apriamo si apre dal di qua ok vediamo se bisogno del taglierino lo usiamo no niente ok esce a qui anche se ci ho tirato un po dentro se anche un pelo scollato il cartone ma ma porca miseria vabbè ok questo lo sfiliamo abbiamo tutte le protezioni sfiliamo l'edizione che va così e sfiliamo anche le due statue che non sono altro che due fermalibri ok se l'abbiamo fatta dopo li vediamo di sistemarla ma comunque mi sembrava che fosse già che fosse già scollata che fosse già scollata ok andiamo a vedere prima le due statue ok come vedete sono due fermalibri qui all'interno hanno del velcro e andiamo a gustarci da ragazzi perché sono veramente veramente bellissime sono veramente bellissime è un che tenevo d'occhio che tenevo d'occhio questa edizione la cercavo ovviamente come ho detto l'avevo trovata ma a prezzi veramente alti e adesso ho avuto quest'occasione e non me la sono lasciata perdere veramente stupenda e questa è la seconda con l'armadio vedete dentro ci sono anche i cappotti qui si vede meglio eh sono dei bei pezzi sono dei bei pezzi poi sono anche pesanti ragazzi eh sono due bei pezzi veramente e adesso andiamo ad aprire il cotanetto 4 dvd versione estesa ora penso che abbiamo il cielo fran protettivo ma penso che il riflesso rimarrà comunque perché l'edizione è argentata e quindi poi è lucida eh non mi dire che ci vuole no se l'abbiamo fatta se l'abbiamo fatta via per terra ok intanto il box come potete vedere riporta la scritta narnia tutta in rilievo cofanetto tutto lucido molto molto bello qui abbiamo tutte queste parti tutta questa cornice lucida e in rilievo mi vedo anch'io e non mi piace quindi andiamo subito a sfilare il cofanetto vero e proprio slip quindi molto carina anche abbastanza robusta direi di qualità ok andiamo ad aprire questo digipec adesso il riflesso non ce l'ho più meno male quindi edizione a 4 dischi ragazzi e poi qui adesso abbiamo anche un booklet che dopo andremo a visionare adesso ve la faccio vedere così la facciamo scorrere verso sinistra quindi avremo tantissimi contenuti speciali sì dovremmo avere in teoria il film nella versione stesa nel primo dvd e poi dopo qui abbiamo l'universo di narnia sì qui abbiamo un altro dvd di contenuti speciali qui la concezione dell'universo che passa dall'immaginazione così è francese un pochino lo lo mastico un pochino eh leggermente perché ho degli zii che abitano a Parigi e quindi un po' di francese magari lo masticavo quando ero più più bambino eh adesso miei cugini sono diventati grandi in Italia non ci vengono più e quindi insomma anch'io lo parlo un po' meno e quindi abbiamo perso molto ok andiamo a vedere questo mini booklet la creazione di un mondo magico la concezione dell'universo che passa dall'immaginazione è un bel booklet comunque anche se di poche pagine abbastanza di qualità perfetto lo andiamo a rinserire all'interno della sua taschina che non so se vi avevo fatto vedere precedente adesso ve la faccio vedere abbiamo una taschina qui dove va ad alloggiare il booklet perfetto ragazzi io lo richiudo tutto quanto e lo reinserisco all'interno del slip case ok perfetto ragazzi questa è l'edizione a mio avviso molto molto bella un gran bel pezzo da collezione e io con questo ho concluso l'unboxing prima di salutarvi vi faccio rivedere un attimo l'edizione edizione veramente bellissima ragazzi eh penso su ebay come ho detto prima ce ne sia qualche edizione disponibile i due fermalibri ok e poi andando a guardare in fondo alla scatola mi ero dimenticato di farvi vedere il certificato di autenticità che è chiuso dentro questa bustina e così ragazzi io ho terminato questo video mi raccomando se il video vi è piaciuto mettetemi like iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti